I tre tappi che frenò tutte le imprese, mamma mia, qua ci sei anche tu, tu che ascolti, io te lo dico, qua ci sei anche tu, perché tutte le imprese, nessuna esclusa, io non ho mai incontrato un'azienda che non abbia questo problema, hanno del fatturato marcio che blocca le risorse e fa perdere guadagni di mese in mese, l'ho parlato anche nella puntata, se il fatturato puzza l'azienda non crescere sul canale, la puoi trovare tranquillamente, gratuitamente su Facebook, Youtube e tutti i nostri social. Tappi, tappi che bloccano la tua crescita, che ti ammorbano, che ti bloccano lì dove stai. Il tappo numero uno, il peggiore che è anche più frequente, è il pessimo cliente. Va che belle immagini che ho trovato, Umberto. Ce l'immaginiamo, vero? Il peggiore più frequente, ma anche quello meno riconosciuto. Quando io sono in consulenza con i clienti ti posso garantire che quando io parlo di pessimi clienti, sì, tutti capiscono il concetto, ma poi è molto difficile riconoscere chi è il pessimo cliente, perché il calcolo è matematico, cioè non è quanto ti sta simpatico o no. Il calcolo per riconoscere un cliente buono da un cliente pessimo è matematico. E la matematica non piace molto agli italiani. Quindi cos'è questa cosa qua? È il pessimo cliente che porta via tempo ed energie. Ti riempi di richieste assurde, torna sulle cose, ti porta via tempo, energia emotiva, energia mentale terrificante. E tutti noi lo conosciamo, cioè tutti noi lo patiamo, patiamo questa condizione, dire la verità. E pensiamo di non poterne fare a meno. Pensiamo che sia così. Ci serve quel fattorato, ma sì, è vero, rompo i coglioni, però alla fine, dai, lo devo inseguire un po', ma alla fine paga. Tu non stai considerando quanto questo rompere i coglioni un po' porti via tempo al tuo staff, a te? Quanto queste richieste assurde porti via tempo al tuo staff, a te? Tutto questa perdita di tempo, di energie, o magari anche solo che delle volte per tenere buono il cliente rompe i coglioni e li fa il regalino, no? Tutto questo va calcolato nel costo del cliente, ma io sono abbastanza sicuro che non lo stai facendo. Perché sei abituato, che è un cliente, mediamente ci vogliono 10 ore a servirlo, e tu calcoli su 10 ore, ma se quel cliente te ne ha presi 20, tu non te ne accorgi, sei in perdita. Se me ha portato via il tempo di un tuo dipendente e di altri due, perché ha rotto le palle più del solito, ti ha triplicato i costi e non te ne rendi conto. Perché questa piaga ammorba la tua azienda? Perché non hai un sistema di selezione ed educazione dei clienti. Ora, messa così, sembra una cosa strana, il cliente si può selezionare, il cliente si può educare. Lo selezioni potendo scegliere fra più persone, fra più clienti potenziali, lo educhi con i contenuti. Sai Enrico che vedo che mi guardano un po' strano in consulenza i nostri clienti, quando io specifico che noi abbiamo una media di 80-100 richieste al mese e selezioniamo due clienti al mese. Adesso tranquilli, ci stiamo attrezzando per il terzo e l'obiettivo è arrivare a quattro entro fine anno. Ma ad oggi noi prendiamo due clienti al mese su una media di 100 richieste. E mi guardano storici, però io così seleziono. Vi garantisco che seleziono quelli che hanno già, seguendo i nostri contenuti, la giusta predisposizione mentale a cosa? Alla crescita. Perché quello è il nostro criterio, no? Chi è il cliente che lavora bene con noi è quello che vuole crescere, non quello che appunto non è educato in questo senso. Non è una cosa, non ti vogliamo, una cattiveria. Abbiamo due posti. E quando tu hai due posti e 100 richieste, cazzola, puoi scegliere. Ma non è che succede che nel tuo settore, perché abbiamo avuto sul lago di Lugano, ricordi Enrico, diversi anni fa, un ristorante che abbiamo dovuto mollare noi come cliente, perché faceva un massimo di 600 posti a sedere in un weekend, era arrivato ad avere, grazie a noi diciamolo, 1800 richieste di prenotazioni. Quindi tre volte tanto la sua capacità di erogazione. E quando gli ho detto, bene, è il momento giusto per aumentare i prezzi? Ha detto, no, perché se no i clienti vanno via. E ho risposto, ma anche vanno via alla metà, c'hai comunque i posti pieni. No, 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 cosa abbiamo deciso di fare Enrico? Ciao. Eh, se il cliente non vuole crescere, noi abbiamo finito di lavorare. Ci avevamo già portato ad essere pieno abbastanza da poterlo fare. Si può fare in qualunque settore. Sto seguendo un caso dove io ho visto un ristorante in questo momento, questo momento storico, un ristorante, riempire la sala in pochi minuti dal lancio di un'iniziativa con pagamento anticipato della cena. Allora, qualunque settore sia il tuo, se non hai raggiunto questa cosa, che lanci una nuova cosa in poco tempo, vendi quasi tutto quello che hai con pagamento anticipato, allora ne abbiamo di strada da fare assieme, no? Ce n'è di possibilità. Quindi, seleziona il tuo cliente, educa il tuo cliente e avrai sempre meno rompicoglioni. Tappo numero uno, eliminato. Tappo numero due, il prodotto o servizio che ti manda in perdita. E qua, e qua, siamo, veramente apriamo, sfondiamo un portone a sei ante, perché vedo listini di persone che uguali da 20-30 anni, che continuano a gestire le stesse cose, a vendere le stesse cose, ok? Per legacy, si dice in inglese, per eredità, ok? Non voglio dire abitudine, ma possiamo dire anche più profondo di abitudine. Cioè, proprio questo è il modo in cui si fanno le cose, punto. Impostazione rigida. Impostazione rigida, proprio un modello di pensiero. Eppure, non ti rendi conto che queste cose che stai vendendo ti costano più di quanto ti rendono. Ad esempio, la ceretta standard. Cioè, la ceretta è l'esempio classico, che possiamo poi trasportare in tutti i settori, anche in quello edile, ok? Anche quello della consulenza, anche quello... Però, pensa alla ceretta. Devo mettere una persona ferma al lettino, quindi occupare il lettino, occupare la persona, non è tanto il costo del materiale. Il materiale costa pochissimo, ma è il costo della dipendente e il costo del lettino fermo. Cioè, a quel punto... Tanta concorrenza, quindi tanta gente che ha abbassato i prezzi. Ho sentito una consulenza con un centro estetico molto interessante, Enrico, che rideva del fatto che la sua concorrenza in zona fa le sedute da epilazione laser a 8 euro. E mi ha detto, io le faccio a 50, ma noi conosciamo personalmente, Enrico, un imprenditore che le fa a 300. Sì, si è ben incontrato. C'è chi le fa a 300, chi fa la stessa cosa, fra virgolette, a 8. Allora, non entriamo nello specifico di quella cosa, ma quello che la fa a 8, ti garantisco che è in perdita. E se non hai una struttura dietro per monetizzare quel cliente lì e si figura del, vabbè, ma io nel mio quarto d'ora di lavoro ho incassato 8 euro, questo è un tappo forte, perché liquidità in cassa non ce ne hai. E noi non siamo Amazon, non siamo Shane, non siamo la Apple, e abbiamo quella cosa che caratterizza tutte le piccole e medie imprese italiane che si chiama cassa. Noi dobbiamo badare alla nostra cassa. E se ci mettiamo meno soldi di quelli che escono, non c'è più. Qualcuno esplode. Qual è la soluzione? O elimini quel servizio, o se proprio, non proprio, non lo puoi eliminare perché è vitale nella costruzione del tuo settore, della tua azienda specifica, crei dei pacchetti in cui lo inserisci associandola ad altre cose, prodotti o servizi, che ti portano un guadagno. Oh, sapessi Enrico, che caso studio che avremmo tra un po' su questa cosa. Dammi ancora un attimo. Sì, 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 ancora qualche mese. Poi proprio su questa cosa ci divertiamo. Questa cosa qua specifica dell'estetista, ma non possiamo entrare nello specifico perché sennò poi copiano l'idea per Christian, no? Christian se la prende. Che Christian possiamo dirlo. Adesso poi vedremo, lo costruiamo fra un annetto, ci divertiremo un sacco. Caso numero B, magari dei prodotti che confondono il cliente e disperdono il buon fatturato. Io ho visto attività che vendono e riparano le scarpe. Un difetto dei Sarti è che parlano a più tipi di aziende diverse, quindi magari è più difficile fare casi specifici nel tuo settore, ma solo perché non so di cosa stai lavorando, basta che entri in consulenza e i casi te li facciamo tranquillamente. Cerca di portare nel tuo settore quello che ti stiamo parlando. Pensa a un'azienda che vende scarpe e le ripara. In questo modo attira fatturato scarso. Cioè, la persona che vuole comprare la scarpe per sentirsi figo e quindi disposta a pagare 3, 4, 500 euro per un paio di scarpe, non vuole andare in un posto in cui le riparano. Gli fa povero. Eh sì. Ed è pieno, pieno, pieno. Addirittura ho trovato un posto che vendeva vestiti e vino una volta. È davvero... Ha chiuso poi, sai Umberto? È un conto se fai un pub, un bar e dentro ci sono i gatti, no? Va bene. I gatti stanno bene con tutto, sì. No, ma è un esempio buono, perché non è che non devi mischiare le cose, le devi mischiare sensatamente. Vestiti e vino, cioè, permettimi di dire che io, cliente, dico, non saprei un cazzo di vino, un cazzo di vestiti, se li hai messi assieme, no? Non compro da te. Non sei affidabile. Se invece mi dici, c'è un bar che ho messo dentro i gatti, dico, andiamo nel bar dei gatti. Ce n'è uno in Italia, è uscito su tutti i giornali, no? Quindi quant'è unicità quella? Altissima, altissima. Allora avremo anche noi, prima o poi Enrico. E veniamo infine al tappo 3, l'ultimo punto di questo blocco. Procedure che portano via tempo e soldi. Qua mi devi dare un po' di fiducia, perché è un qualcosa di oscuro la maggior parte delle aziende italiane. Cosa intendiamo? Scusa, Enrico, scusa, lo devo dire. Questo punto qui è quello su cui Enrico miro. le palle di più tutti i giorni e fa bene, perché l'operatività dell'azienda è fatta di procedure e se non tieni grande controllo delle procedure, non ti rendi conto dove sono i buchi. Enrico tutti i giorni mi martella su questa cosa e fa bene, perché mi paga per questo e profumatamente. Quindi è giusto che io stia molto attento a questa cosa, no? Ma perché? Proprio perché non si vede facilmente. Quindi davvero tu che stai seguendo un po' di fiducia, perché o analizziamo la tua azienda dall'interno o ti dico già fai un po' fatica a vederle queste cose se non le hai già analizzate. Quindi ci serve a farti capire cosa devi osservare. esempio di procedure. Cosa succede quando un cliente entra nella tua struttura? Qual è la procedura per prendere quel cliente e monetizzarlo? Cosa succede quando un nuovo dipendente viene assunto? Qual è la procedura perché quel dipendente vada a rendita nel minore tempo possibile nel miglior modo possibile? O i dipendenti, come i clienti possono farti perdere un sacco di tempo se tu non li segui? No? Cosa succede quando una persona chiede informazioni? Questa è la più facile, no? Chiede informazioni oggi, quando le rispondi? Sei strutturato per rispondere velocemente o no? Questa è la più facile da spiegare Enrico perché è quella che è più evidente. No, ma chiede informazioni e rispondo domani. Adesso voglio mostrarti come la maggior parte delle aziende mi sembra. Cioè io quando vado in un'azienda vedo questo. Vedo uno scolapasta. Un secchio, perché lo scolapasta è un secchio, bucato, che se lo guardassero gli alieni direbbero ma che cazzo serve? Perché non hanno mai visto la pasta gli alieni. Eh? Non hanno mai visto la pasta gli alieni. Esatto. Ma fa ridere, no? Perché lo scolapasta serve solo per la pasta. Ma un secchio serve per tantissime cose. Ma la tua azienda è uno scolapasta. perché se ogni situazione che si presenta alla tua impresa viene gestita così come viene stai sprecando tempo, fatica e fatturato. Ma questo non sono io a dirtelo. Non devi credere a sto tipo con la barba lunga e il cappellone. Le aziende che crescono ogni mese hanno procedure specifiche per ogni situazione. Cioè c'è un manuale che dice alle persone cosa fare in ogni caso. Io mi ricordo ancora questo locale a Bologna scoprì che nessuno sapeva come riattaccare la luce se saltava la luce. Solo una persona che però non era lì sempre. E io ho detto ma quindi quando salta la luce che succede? Non lo sanno. Cioè ed è una puttanata. Oppure questo posto in cui è andata una persona a lavorare e non sapeva dove stavano le scatole per fare i pacchi e quindi i clienti aspettavano e se ne sono andati perché non sapeva dove trovare quella cosa lì specifica. Cioè le aziende italiane sono degli scuola pasta perché affrontano la quotidianità senza organizzazione. Per esempio devi tenere sotto controllo tutte le tue spese che servono a gestire l'azienda dal fornitore al come si chiama la bolletta energetica al rimborso spese ho visto aziende dare rimborsi spese per le cose più assurde per il semplice fatto che il commerciale di turno l'aveva dichiarato e anche su una serie di iniziative tipo non so cos'è che facciamo domani Enrico? Domani ci divertiamo e andiamo ci vediamo con tutti quanti i sarti andiamo a mangiare fuori e prima andiamo in una mostra delle illusioni. E chi paga? Pago io ovviamente. Paga l'azienda. Adesso a parte il fatto che benissimo così domani ci divertiamo tutti e lo facciamo con i tuoi soldi e siamo ancora più contenti ma il dato è che quella è un'uscita dell'azienda e se tu non la tieni sotto controllo non ci fai una procedura precisa anche quella diventa vabbè dai siamo andati a Gardaland siamo andati alla mostra ma stai tenendo dietro a questi conti anche metti tutto assieme e scopri che ci sono un sacco di cose su cui puoi intervenire procedurarle che non significa non farle se Enrico dicesse una volta nella vita non facciamo queste cose con le aziende io li chiederei se sta bene perché è il primo a dire siamo un gruppo e dobbiamo anche fare il gruppo ed ha un grande valore sia per noi che per i nostri clienti però va tutto procedurato e possiamo darti una mano in questo parliamone con una consulenza gratuita di un'oretta insieme senza impegno e capirai quali sono le procedure che possono aiutarti ad aumentare il fatturato sulle opportunità di vendita che già hai ma non domani perché siamo tutti a pranzo assieme domani non rompere ma non domani non rompere ma non domani non rompere